per le zeppole abbiamo fatto riposare due ore quanto volete che ha fatto 200 grammi di farina 200 grammi di acqua lievito di birra un pizzico di sale e abbiamo fatto il sono le friggiamo mettendo olio a riscaldare per fare le zeppole accendiamo mettiamo l'olio a riscaldare caddo caddo e se si fa caddo io metto sempre stuzzicadente così vedo le bolle che si fanno e vedo che si è fatto caddo caddo e andando che abbiamo messo per vedere se l'olio si è fatto caddo abbiamo tutto o mettiamo l'impasto un piccolo giriamo se non c'entro altre se vuole mi fa scendere bene l'olio mettiamo un po' di pastetta mettiamo poco così si appiccicano se ne ne basta allora un po' di sale guardate morbidissima morbida guardate se vi piace ok se vi piace addio Grazie.